Mario Rui sul secondo palo, il colpo di testa, il gol di Lorini, 1 a 1, a 8 dalla fine, Lepoli, Travalpari, si è staccato dalla marcatura, ha bucato Viviano, 1 a 1. La posizione regolare di Lorini, lo perde completamente Soriano, anzi Cassani non Soriano, quando va giù Lorini ha già segnato e gode l'1 a 1.